Noi non sapevamo. Noi abbiamo dato soldi. Hai cacciato 20.000 vittime. Anche noi abbiamo dato 20.000 euro. Ma perché va bene? Furto con scasso, occupazione proprietà privata, immigrazione prandestina e... E' il modo cacci nostri! Bello il cattivo tempo. Teatro Manzoni, siamo con il cast multietnico al completo dell'appartamento sold out. In ordine orario? Io Stefano Ambroggi, interpreto Armando, disoccupato, il cast integrato italiano, insieme a mia moglie. Io sono Gabriella Silvestri. e sono una parrucchiera disoccupata che si è accompagnata appunto con qui presente cassa integrato. Si chiama Irene. Irene. Poi abbiamo Angelo Orlando. Angelo Orlando, Gioacchino Stasi, il vecchietto proprietario dell'appartamento. Gli indiani. Io sono Rishad Nurani, interpreto Ravi. Sono un immigrato, è arrivato qui in Italia per lavorare e fare una vita, insieme a mia moglie. sono Marine Galstian, interpreto Kalindi, questa moglie obbediente indiana. Io faccio il pizzettaio arabo, arabo romano, da vent'anni qua in Italia. che parla un po' romano e un po' arabo. Alida Sakur Amina, moglie di Osama Pizzettaro, incinta, araba. Araba. Chi ci racconta la veloce la sinossi? La parrucchiera. La parrucchiera. La parrucchiera vi racconta la sinossi, la regia è di Vanessa Gasbarri, che in questo momento non sta con noi. Allora, in due parole, questo appartamento che voi vedete qui intorno, un appartamento delle case popolari, venduto praticamente a tutti quanti, cioè quindi alla coppia romana, alla coppia indiana e alla coppia araba. Quindi si ritrovano, per forza di cose, tutte e sei dentro lo stesso appartamento. Ora abbiamo già svelato una piccola cosa, e cioè il proprietario, già è stato detto, poi se lo volete tagliare, però il proprietario dell'appartamento, a un certo punto arriva anche lui. Quindi in questa casa c'è la convivenza forzata di ben sette persone. E ovviamente non vi dico altro, perché poi succede una cosa molto importante e molto forte. Non possiamo svelare che è il cuore di questa convivenza e di questa solidarietà tra varie etnie. Molto d'attualità, molto d'attualità. Si rite tanto, si rite tanto su un argomento molto drammatico, e poi la cosa importante è che è stata scritta da Francesco Apolloni, che potrebbe essere utile magari. E si rite tantissimo, pure parlando di un argomento molto serio. Certo, certo. Allora, quindi vi aspettiamo al Teatro Manzoni fino al... Al 20 di dicembre. Poi potete andare in vacanza per Natale, dove pare. Certo. Andare in montagna, dove vi pare. Caste di primo ordine, non potete mancare. Vi aspettiamo il bello e il cattivo tempo. Ciao. Ciao. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie. Mara . Grazie.